Il settimo capitolo incomincia con padre Cristoforo che entra dentro la casa di Lucia e di Agnese arriva nell'attitudine di un buon capitano che ha perduto la sua battaglia effettivamente fra Cristoforo ha perso la battaglia con Don Rodrigo non è riuscito a convincerlo a parole però non è scoraggiato, è afflitto ma non scoraggiato la guerra può ancora essere vinta diciamo così e poi dice di avere tanta tanta speranza tanta speranza in lui perché ha un filo della provvidenza no no, dice che ha un filo della provvidenza noi sappiamo qual è questo filo, il vecchio servitore e dice Renzo domani vieni da me in convento che ti spiego che cosa mi dice, insomma quali sono le notizie c'è questo filo della provvidenza e dice Renzo vieni da me in convento domani e ti dico, infatti il vecchio servitore ha promesso che andrà al convento a dire quali sono le trame, i progetti di Don Rodrigo eccetera e così anche lui li saprà e potrà dirgli a Renzo quando va via Fra Cristoforo però Renzo dice col piffero che io vado soprattutto anche Agnese gli dice non andare tu da Fra Cristoforo perché dai tuoi occhi Fra Cristoforo capirebbe subito che abbiamo in mente qualcos'altro da fare e quindi mandiamo qualcun altro e ad Agnese viene in mente di chiedere questa incombenza a Menico che è un ragazzino sveglio così come era sveglia la Bettina vi ricordate lo prende mentre lì sulla riva del lago che sta giocando a rimbalzello cioè sta praticamente lanciando dei sassi cercando di far rimbalzare questi sassi sull'acqua del lago il più volte possibile perché noi uomini siamo abituati a fare le cose che ci piace fare e che siamo bravi di fare più e più volte e dice senti Menico ti do quattro parpagliole cioè tu hai quattro soldi insomma se poi domani vai a chiedere informazioni al convento insomma Fra Cristoforo dovrà dirti delle cose chiederà di Renzo tu gli dirai Renzo non è potuto venire vengo io al posto suo e ti farai dire qualcosa da Fra Cristoforo ma quando va via Fra Cristoforo dalla casa di Lucia e di Agnese e Renzo è lì comunque Renzo dice ah sì il filo della provvidenza sì intanto non è riuscito a convincere Don Rodrigo ma ci penso io adesso la risolvo io la situazione e il discorso che facevamo prima cioè i pensieri omicidi di Renzo che passano attraverso questi capitoli dalla fine del secondo alla fine del terzo all'inizio del quinto si trovano anche questi pensieri omicidi all'inizio del settimo Renzo dice amici o non amici vado lì da solo prendo in un modo o nell'altro l'accoppo Don Rodrigo lui a casa del diavolo io me ne vado me ne vado scappo via a questo punto sarò costretto a scappare via dal Ducato di Milano cercherò di andare nella Repubblica Veneta che era un altro stato cercherò di salvarmi in qualche modo però gli dicono ma in questo modo tu non potrai più sposarti con Lucia e Lucia stessa dice io non potrò sposare uno come te come un assassino un omicida eh non mi interessa almeno io le l'avrò fatta pagare a quel prepotente a questo punto Renzo si scalda talmente tanto che Lucia dice va bene d'accordo prima mi avevo detto che non facevo questo matrimonio clandestino adesso vedo che tu sei cambiato così tanto voglio che ritorni come eri prima e quindi ti dico vabbè sono disposta anche io a fare questo matrimonio clandestino se è necessario a questo punto c'è l'intervento del narratore che si chiede ma davvero Renzo aveva intenzione così come ha detto di andare immediatamente da Don Rodrigo a cercare di ammazzarlo oppure davvero Lucia era dispiaciuta di dire di sì al matrimonio clandestino da un momento che comunque anche lei voleva sposarsi con Renzo lascia queste domande un po' senza risposta ma ci permette di riflettere sulla psicologia in questo caso di Renzo e di Lucia sulle cose che dicono che magari almeno in parte potrebbero essere diverse rispetto a quelle che pensano veramente a questo punto andiamo nel palazzotto di Don Rodrigo a vedere cosa è successo dopo il dialogo fra Don Rodrigo e fra Cristoforo ebbene dopo questo dialogo diciamo che Don Rodrigo nella sala da pranzo non ha trovato più nessun altro se non il contiattivio e siccome Don Rodrigo è rimasto molto turbato da quella profezia verrà un giorno allora il contiattivio lo prende in giro ah il fraticello ti ha convertito ti vedo tutto pensieroso convertito? ma che convertito convertito e poi non parlarmi più di quel frate voglio che non mi parli più nemmeno di quel frate non mi ha convertito per niente anzi te lo dimostro cosa abbiamo scommesso per l'11 di novembre per San Martino io avrò Lucia e tu in cambio mi darai una certa somma ebbene io raddoppio la posta perché sono sicuro al 100% di avere Lucia e il contiattivio dice però non me lo sarei aspettato da te complimenti e se ne ritorna a Milano perché abita a Milano contiattivio e a questo punto Don Rodrigo rimane con i bravi con il griso in modo particolare con il quale organizza un rapimento il rapimento di Lucia la scommessa la vuole vincere in questo modo prende Lucia la cattura e la porta al suo palazzotto questo almeno il suo pensiero e organizza il rapimento appunto con il griso ma c'è il vecchio servitore che sbircia anche stavolta come aveva sbirciato vi ricordate nel dialogo durante il dialogo fra Don Rodrigo e Fra Cristoforo e ottiene questa informazione e va poi e andrà subito il giorno seguente ad informare Fra Cristoforo della cosa state attenti perché i bravi di Don Rodrigo hanno l'intenzione di rapire Lucia e portarla al palazzotto a questo punto arriviamo ormai quasi sulla verso la fine della giornata del 10 dicembre che è la giornata più decisiva che è ancora più decisiva la serata del 10 dicembre perché nella sera del 10 dicembre si convergono i due progetti quello del matrimonio clandestino da una parte e quello del rapimento di Lucia dall'altra per quanto riguarda il matrimonio clandestino si organizzano in questo modo praticamente Renzo va ancora una volta a casa di Tonio a prelevarlo portarlo via con sé insieme con Gervaso andare a cenare all'osteria esattamente come avevano fatto la sera precedente ed effettivamente Renzo va lì e tra l'altro vede che nell'osteria ci sono dei tipi un po' loschi un po' strani che sono i bravi di Don Rodrigo che stanno controllando se la gente è andata a dormire perché quando la gente va a dormire andranno nel casolare a fianco alla casa di Lucia per poi realizzare il piano appunto del rapimento e quindi Renzo chiede all'oste ma chi sono questi loschi figuri e l'oste dice sono dei galantuomini perché pagano e le persone che pagano per me sono dei galantuomini il narratore a questo punto si chiede ma guarda un po' che strana concezione che ha della galanteria quest'oste è una ironia manzoniana evidentemente questa perché l'oste è il modello del borghese che pensa solamente ai suoi interessi ai suoi sporchi interessi commerciali e materiali e quindi è praticamente bugiardo con Renzo perché lui sa benissimo chi sono quelle persone che sono bravi di Don Rodrigo avrebbe potuto dirglielo a Renzo ma non glielo dice quando i bravi invece dicono ma chi sono quei due là che stanno mangiando a quel tavolo ebbene l'oste dice si può dire vita, morte e miracoli cioè chi sono Renzo è quello che si deve sposare e Tonio è il suo amico uno squattrinato e se avesse soldi verrebbe qui nell'osteria a spendeli quasi tutti i giorni Giò quindi abbiamo il primo esempio di un oste all'interno del romanzo dicevamo modello di una persona che comunque si comporta in un modo un pochettino gretto per quanto riguarda Lucia e Agnese hanno dovuto subire lungo tutta quanta la giornata un via vai di strani mendicanti che bussavano chiedevano appunto dell'emosina e poi cercavano di sbirciare dentro casa loro un po' turbati da questa processione si può dire di mendicanti e soprattutto dall'ultimo di loro che però non era un mendicante era un falso pellegrino che oltretutto era entrato persino in casa anche se loro non l'avevano fatto entrare era entrato in casa chiedendo appunto aiuto ospitalità eccetera e intanto aveva visto dove si trovava la camera da letto che era su al primo piano eccetera l'avevano poi fatta uscire perché insomma si trattava di casa loro ma erano rimaste molto turbate finalmente a mezzogiorno di quella giornata lì il famoso venerdì 10 dicembre termina questo via vai di gente e loro si sentono un po' risollevate ma noi sappiamo chi sono questo via vai di gente sono Griso il falso pellegrino e i bravi falsi mendicanti che stanno cercando di capire dove si trova la camera da letto per andare a rapire Lucia e Agnese poi di sera quando andranno a dormire un'altra cosa importante da dire è che invece Agnese dovrà distrarre la perpetua chiacchierando di fatti che possono interessare perpetua e così quando si arriva alla sera benedetta Tonio e Gervaso chiedono alla perpetua di poter entrare nella canonica perché vogliono pagare il debito che deve Tonio a Donaboglio e così la perpetua dice ma vi sembra l'ora di arrivare qui in casa della gente ormai è tramontato il sole e ma sa com'è adesso ho queste 25 berlinge e posso restituirle a Donaboglio domani mattina chissà e allora a questo punto perpetua l'incarico di entrare dentro nella canonica e dire a Donaboglio appunto che sta arrivando Tonio e bisogna farlo entrare altrimenti chissà se poi effettivamente il giorno seguente avrà ancora tutti i soldi da poter restituire a Donaboglio tutti conoscono Tonio e tutti sanno che è un tipo un po' spendaccione e quando i soldi ce li ha in mano in un attimo li perde ma questo era tutto il progetto del matrimonio clandestino perché invece nascosti ci sono Renzo e Lucia che poi salteranno fuori al momento buono per tentare di essere sposati altri video didattici su atuttascuola.it Grazie a tutti.